Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Continuiamo ad avvicinarci alle elezioni regionali del 10 marzo 2024. In questa marcia di avvicinamento Reteotto ha già iniziato a sondare il terreno tra gli schieramenti, tra le forze geopolitiche e i gruppi consigliari. Oggi l'incontro riguarda una nuova realtà che sarà presente in questa competizione elettorale sulla scorta di cinque anni di esperienza di governo Marsilio. La lista appunto che è legata al presidente stesso, la cosiddetta lista del presidente, come noi nelle semplificazioni giornalistiche siamo soliti definire questi soggetti politici. Sarà invece una lista di amministratori e anche di personalità che sono particolarmente legate a Marsilio e non sono necessariamente espressione di questo o di quel partito. Ho detto bene, lo chiedo al coordinatore di questa lista che è Terenzio Rucci e che ringrazio per aver accolto il mio invito. Grazie direttore, intanto per l'invito ha detto benissimo. È una nuova realtà che però è stata costruita poi di fatto in questi cinque anni di amministrazione Marsilio in cui abbiamo avuto modo di conoscere tanti amministratori per bene e capaci, ai quali andava concessa l'opportunità di mettersi in gioco, di poter rappresentare il territorio da cui provengono anche a livello regionale perché le buone idee sono tante e hanno ovviamente la necessità di essere introdotte all'interno del palazzo regionale che è quello all'interno del quale poi viene effettuata la vera operazione di programmazione amministrativa per quanto riguarda il territorio abruzzese. E quindi questa lista ha l'ambizione di fare esattamente questo, di allargare i propri confini. All'interno della lista non sono previste candidati uscenti dal Consiglio regionale il che mette in condizioni gli amministratori di poter competere alla pari quindi di comporre una lista molto forte, molto equilibrata in cui tutti quelli che si candidano hanno la possibilità effettiva di essere eletti e questo permette invece al Presidente Marsilio di avere dalla sua una squadra dai confini più ampi rispetto a quelli avuti in questi cinque anni. Tra l'altro questa è sicuramente una lista civica, quindi pura per definizione, non con un retaggio ideologico che permette di avere dei confini più ampi e quindi di accogliere al suo interno anche sensibilità differenti perché noi siamo sicuramente convinti di aver fatto bene in questi cinque anni di governo pensiamo con grande umiltà e senso di responsabilità che si possa fare meglio. Arrivare al meglio ci si arriva sempre attraverso un confronto sempre con il coraggio di mettersi in discussione e per farlo siamo quindi a disposizione ad accogliere sia le persone che vogliono, come dire, proporre la propria candidatura ma soprattutto con la nostra responsabilità di effettuare una selezione per aggiungere personalità importanti all'azione di governo dei prossimi cinque anni. Ecco, la connotazione civica è evidente sin dalle prime due scelte annunciate in provincia di Chiedi con relative conferenze stampa hanno fatto prima Luciano Marinucci, poi Antonio Luciani, sindaci anche in alcuni momenti della loro vita amministrativa anche di coalizioni che non avevano grandi presenze del centro-destra Luciano è addirittura del centro-sinistra. Ecco, quale significato ha l'adesione al programma di Marsiglio di queste personalità molto legate alle loro città che hanno amministrato entrambi per più di una legislatura? Beh, intanto parliamo di personalità di spicco assoluto che hanno anche un po' mosso l'opinione pubblica con la loro adesione al progetto della lista Marsiglio Presidente. Tra l'altro voglio ricordare che oltre Marinucci e Luciani ha presentato la sua candidatura anche Filomena Mariani di Tollo che è una storia un po' differente rispetto ai primi due che però voglio comunque menzionare. Per quanto riguarda Marinucci parliamo di un amministratore di una città importante ovviamente per la provincia di Chieti una città anche al centro del dibattito di una grande opera progettuale che è quella della Roma Pescara che merita comunque una menzione è una persona che nel tempo ha manifestato e ha avuto sempre una relazione con Marsiglio a viso aperto una manifestazione schietta, sincera anche su posizioni che si sono dovute incontrare che partivano da presupposti abbastanza differenti però la grande capacità politica di Marsiglio e di Marinucci in quel caso è stata quella di addivenire ad un avvicinamento fino al punto in cui io che ho un rapporto anche di amicizia con Marinucci alla fine abbiamo deciso di fare questo percorso insieme con soddisfazione di entrambe le parti e quindi portando quel valore aggiunto di un'opinione differente all'interno del nostro consesso all'interno invece del dialogo avvenuto con Antonio Luciani partivamo effettivamente da posizioni molto differenti non è un segreto e anzi è forse il dato più importante che Antonio Luciani sia stato sindaco appoggiato alla maggioranza di centrosinistra nonostante questo nel dialogo, nella sincerità, nel rispetto anche nello scontro che abbiamo avuto nelle nostre serate in cui abbiamo iniziato ad analizzare questa prospettiva alla fine abbiamo trovato un punto d'incontro un punto d'incontro basato sulla progettualità sulla voglia di rappresentare il territorio sulla voglia di sposare un progetto ma soprattutto su un cambio culturale che si intende dare con la lista Marsiglio Presidente anche per Antonio Luciani così come per gli altri ormai è palese che l'Abruzzo ha bisogno di vincere soprattutto da un punto di vista culturale abbandonando la logica dell'alternanza e dando continuità di programmazione amministrativa al nostro territorio perché questo ci permetterebbe di andare più veloci e di andare più lontani Il discorso delle candidature lei ne ha raccontate tre di storie individuali che vengono comunque a valle di un lavoro di interazione con il territorio del Presidente Marsiglio è venuto non strettamente a ridosso della campagna elettorale lei ha anche seguito personalmente Marsiglio in questi tour nei comuni abruzzesi quali sono le esigenze più rappresentabili dalla regione di queste comunità e che devono far parte del programma della vostra lista immagino anche dell'azione di governo del Presidente Marsiglio Allora sì dal primo momento dall'insediamento il Presidente ha manifestato la volontà di voler raggiungere tutti i comuni è un'azione che abbiamo provato a portare avanti dal 2019 in poi purtroppo la pandemia ha rallentato questo tipo di presenza lo abbiamo fatto abbiamo raggiunto ad oggi quasi tutti i comuni quello che è sorpreso molto spesso è che tanti sindaci ci hanno detto che loro non hanno memoria di un Presidente di Regione che era stato in quei comuni cosa che per noi è sembrata assolutamente come dire fuori contesto perché come si può pensare come dice giustamente lei direttore di andare a intercettare le esigenze territoriali se non si tocca con mano se non si va con i propri occhi a vedere effettivamente la vita quotidiana qual è la difficoltà nel vivere in un territorio piuttosto che in un altro o quale possa essere la potenzialità di un territorio piuttosto che di un altro questo abbiamo provato a farlo lo abbiamo fatto ovviamente a confronto con le amministrazioni e anche con i cittadini parlando con chi era curioso tant'è vero che i nostri appuntamenti sono sempre stati a porte aperte nella sala consigliare nella casa dei cittadini in comune quello che abbiamo registrato in questi anni è che pensiamo possa essere un qualcosa sul quale debba essere sempre implementata l'azione di governo è molto eterogeneo intanto va fatto una distingue tra le aree costiere e le aree interne che ovviamente hanno esigenze e potenzialità differenti mentre sulle aree costiere quello che ci viene chiesto molto spesso è sempre lo sviluppo è sempre la rincorsa è sempre l'implementazione dell'investimento relativo anche alla promozione territoriale di un certo tipo sulle aree interne questo avviene ovviamente perché per fortuna i cittadini abruzzesi sono cittadini che guardano sempre con ambizione al futuro e allo sviluppo però non dobbiamo mai dimenticare che le aree interne tante volte possono aver bisogno di un'attenzione differente sia da un punto di vista infrastrutturale sia da un punto di vista dei servizi che devono essere mantenuti e anzi implementati talvolta tant'è vero che il Presidente ha effettuato una sua legge specifica sullo spopolamento per incentivare a restare a tornare a insediare nuove attività all'interno delle comunità che sono soggette a spopolamento secondo una precisa statistica e quindi uno studio effettuato ecco in questa direzione l'azione di governo deve continuare ad andare e deve farlo sempre con maggiore forza ma ci saranno soltanto amministratori che peraltro alcuni nel caso volessero candidarsi dovrebbero dimettersi se i loro comuni sono medio-grandi oppure sarà una lista formata anche da personalità che insomma hanno un'attività non direttamente politico-amministrativa ma che comunque aderiscono dal mondo della cultura dal mondo delle professioni al messaggio lanciato dal Presidente in questa campagna elettorale Questa è una lista di ampio respiro all'interno della lista Marsilio Presidente possono trovare spazio profili eterogenei sicuramente la campagna elettorale per le regionali è una campagna elettorale anche complessa quindi occorre avere un certo tipo di esperienza per me è un atto di responsabilità guidare i candidati all'interno di questa lista metterli in condizioni di fare degli ottimi risultati dei risultati apprezzabili per il loro bene per il bene della lista e soprattutto perché ne vale anche della mia competenza questo però non toglie che sicuramente all'interno della lista ci sarà spazio per chi viene dalla società civile sia dal mondo delle professioni sia dal mondo dell'imprenditoria sia dal mondo anche dell'esperienza scolastica lo dico perché sicuramente noi abbiamo l'obiettivo di creare intorno a questa lista un grande movimento di consenso in Abruzzo la maggior parte delle liste che vengono presentate nei comuni sono liste civiche potremmo dire che le liste civiche se fossero tutte la stessa lista sarebbero il più grande partito abruzzese e sappiamo benissimo che all'interno delle liste civiche le sensibilità sono differenti quindi per quanto riguarda gli amministratori ovviamente ne abbiamo già parlato è sicuramente la loro casa naturale per quanto riguarda le personalità della società civile e invece sicuramente se ne farà un lavoro più di dettaglio selezioneremo chi è in grado di affrontare una campagna elettorale di un certo tipo chi non sarà in lista farà parte comunque del nostro movimento in queste ore riceviamo molto spesso la richiesta di poter collaborare con noi di essere intorno a noi di dare il loro spunto anche da un punto di vista di esperienza e di contenuto perché poi le liste è vero che si contano sui numeri però devono avere una grande identità sugli obiettivi che vogliono rappresentare in consiglio regionale una curiosità in termini di percentuale a che punto siete con la formazione delle liste nelle quattro province ricordiamo si vota con liste provinciali siamo in una percentuale molto elevata lo dico con trasparenza anche se siete bravi a non far trapelare altri nomi mi hanno anche accusato un po' di questo di essere troppo serrato nella mia riservatezza per mantenere questa riservatezza sono le mie prime vittime gli stessi candidati che conoscono in parte o in alcuni casi per niente i propri compagni di viaggio è oggettivamente una accortezza necessaria in questa fase molto delicata di composizione delle liste posso dire che le liste nelle quattro province sono abbondantemente oltre la metà della composizione non ho intenzione di dare una chiusura definitiva con troppo anticipo perché la politica nel tempo ha insegnato a tutti noi ad aspettarci sempre qualche sorpresa e quindi andiamo cauti facciamo la selezione migliore la lista è a buon punto è una lista equilibrata, competitiva soprattutto all'ambizione di essere una bella sorpresa a seggi chiusi anche perché non essendoci appunto le gerarchie di partito ognuno corre per sé con le stesse probabilità e possibilità di partenza insomma alle regionali è chiaro che è difficile fare cordate al di fuori dei partiti quindi insomma è un'esperienza del tutto particolare quella che si sta tentando qui in Abruzzo sì assolutamente sì l'ambizione è quella di fare è un risultato al di sopra delle aspettative lavoriamo con i piedi per terra comunque con umiltà però una cosa è certa nell'equilibrio di questa lista risiede la forza anche del suo consenso i nostri candidati hanno tutti la percezione di potersela giocare di poter primeggiare nel proprio collegio questa condizione competitiva ovviamente spingerà tutti quanti a dare il massimo però una cosa la voglio chiarire sposare questo progetto deve essere una vocazione non abbiamo ovviamente pregato nessuno di candidarsi con noi qualcuno abbiamo come dire lavorato per tenerlo in squadra in una posizione differente perché crediamo fortemente che su questa lista ci si debba credere e si debba percepire che correre nella lista che porta il nome del presidente Marco Marsilio è un onere ma è anche un onore perché parliamo di un presidente uscente che ha la possibilità la forza la legittimità per essere rieletto e far fare all'Abruzzo un salto di qualità in avanti portandolo ovviamente a raggiungere quei risultati programmatici che richiedono dei tempi più lunghi di un semplice quinquennio Io ringrazio Terenzio Lucci che ci ha presentato lo stato dell'arte della costruzione del soggetto politico che sarà presente alle prossime elezioni regionali la lista Marsilio Presidente naturalmente ci aggiorniamo tra qualche settimana tra insomma una fase della campagna elettorale in cui entrerà più nel vivo anche la sfida tra i candidati e li conosceremo più da vicino intanto grazie e buonasera Grazie direttore